In famiglia tra cibo, gioco e relax, Tenuta Cantagallo, il locale che sa regalare, oltre alle gioie del palato, divertimento anche ai più piccoli. Tante le novità, macchina dello zucchero filato, popcorn, mini topolino, mascia e urso, il carretto dei gelati, i gonfiabili, tutto sotto il controllo attento delle nostre babysitter. Servizio limousine per ogni cerimonia, Tenuta Cantagallo, a Francavilla Fontana sulla via per Carosino al chilometro 4. Info 0831 890919 I giovani e i riti della Settimana Santa Tarantina, un ricordo per il compianto Francesco Carlucci, un invito ai giovani, soprattutto e non solo, per vivere a pieno, col giusto sentimento religioso, i riti della Settimana Santa, attraverso una rivisitazione con giornali, articoli, cartoline, disegni e quant'altro. Siamo con l'Avvocato Gina Lupo, che in questa sede è madrina dell'evento, oltre che naturalmente, istituzionalmente, come consigliere di parità della provincia di Taranto. Sì, io ti ringrazio Luigi. Oggi taglierò il nastro di questa mostra che inizia appunto nella giornatoriana e si chiuderà dopo Pasqua. È un percorso, è un percorso della nostra storia. I riti della Settimana Santa sono un nostro patrimonio. E ogni cittadino tarantino che si rispetti dovrebbe conservarlo, preservarlo e tramandarlo. Io ci ho sempre creduto, fanno parte della nostra vita, della vita di tutti noi. Un grazie al professor Carlucci, che attraverso delle tavole che il figlio Francesco voleva portare presso l'ambasciata di Berlino, poi struncato da una malattia non ha fatto in tempo, oggi riviviamo un percorso con cartoline d'epoca, molto lontane nel tempo, con articoli di giornale. È una mostra questa che dovrebbe essere visitata da tutte le scolaresche, da tutti i nostri ragazzi, proprio per comprendere quanto fa parte del cuore di Taranto, quanto c'è del cuore di Taranto in questa mostra.